Grande Fratello Caos sondaggio, Signorini tuona contro Shaila e Lorenzo.In un'epoca in cui la realtà televisiva si intreccia sempre più con la vita quotidiana delle persone, il Grande Fratello continua a essere uno dei programmi più seguiti e discussi. Recentemente, Alfonso Signorini ha deciso di coinvolgere direttamente il pubblico in una questione che ha tenuto banco nelle ultime settimane, la relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Attraverso un sondaggio lanciato sui canali ufficiali del programma, gli spettatori sono stati invitati a esprimere il loro parere sulla genuinità del legame tra i due concorrenti. Grande Fratello, il sondaggio spiazza tutti.La coppia formata da Shaila e Lorenzo non è stata esente da critiche all'interno della casa, con alcuni inquilini che hanno messo in dubbio la sincerità dei loro sentimenti. Luca Calvani, ad esempio, è stato uno dei più vocali nel sollevare perplessità riguardo alla natura della loro relazione. Queste discussioni hanno inevitabilmente influenzato l'opinione pubblica esterna, portando alla necessità di un chiarimento attraverso il voto popolare. Il risultato del sondaggio ha parlato chiaro, il 60% degli spettatori crede nell'amore tra Shaila e Lorenzo, questo dato non ha solo confermato la fiducia del pubblico nella coppia ma ha anche offerto ai due giffini un momento di grande emozione quando hanno scoperto in diretta l'esito della votazione. La reazione spontanea di entrambi, culminata in un bacio appassionato davanti alle telecamere, sembra aver messo a tacere le voci critici almeno per il momento. Di fronte al sostegno ricevuto dal pubblico, sia Shaila che Lorenzo hanno voluto ribadire la sincerità dei loro sentimenti. Io lo sto vivendo davvero, ha dichiarato Shaila visibilmente commossa dopo aver appreso dell'esito positivo del sondaggio. Anche Lorenzo si è espresso sulla questione, non so perché pensino che ci sia una recita dietro. Entrambi hanno poi sottolineato come l'idea che possano aver costruito una strategia basata sui loro sentimenti per restare nel gioco sia assurda considerando quanto tempo abbiano trascorso insieme sotto lo stesso tetto. Questo episodio rappresenta non solo una vittoria personale per Shaila e Lorenzo ma anche un interessante punto di riflessione sul ruolo dell'opinione pubblica nei reality show moderni. Il fatto che i telespettatori possano avere voce attiva nelle dinamiche interne alla casa evidenzia come questi programmi siano diventati veri e propri fenomeni sociali capaci di generare dibattiti ben oltre i confini dello schermo televisivo. Grazie a tutti.